tutti. Ciao. Eh non so se mi sentite. Sì, ti sentiamo Maurizio. Ah va bene. Allora, come sapete, sono qui ad Ancara con Anna Camposampiero al congresso dell'HDP. Eh io credo che tra l'altro non lo sapevo quando siamo partiti che abbiamo fatto proprio bene a venire perché noi siamo venuti dalle nostre compagnie e dei nostri compagni curdi abbiamo saputo che martedì arriverà Mario Draghi per incontrare invece Erdogan. Quindi la linea di frattura di cui parlava Francesco Campolongo eh poco fa diciamo che che c'è tutta eh questo è un congresso dell'HDP che per noi è stata un'esperienza per molti versi drammatica perché molte delle persone, delle compagnie e compagni che abbiamo incontrato nel precedente nel febbraio duemilaventi non ci sono perché in questo momento sono in galera ci sono più di quattromila militanti detenuti tra cui più di quaranta parlamentari e i due co-presidenti eh De Mirtas e Figen che tra l'altro fu un nostro ospite eh in Italia. Nonostante questo eh questo congresso mi dispiace che non siamo riusciti a collegarci stamattina perché lo avremmo fatto da eh dal momento di massima partecipazione ma nel del palazzetto non c'è la possibilità di collegarsi eh perché eh è una festa di popolo e credo che possa essere per noi in un contesto completamente diverso però di molta ispirazione verso forme di creatività politica che molto spesso ci mancano perché nella nostra area stiamo sempre col freno a mano tirato perché dico forme di creatività politica perché i compagni e i compagni curdi hanno costruito per reagire a un sistema politico blindato con eh uno sbarramento al dieci per cento che era pensato proprio per escludere eh la sinistra più radicale e anzi la sinistra direi e i curdi avevano sostanzialmente eh inserito questo super sbarramento che è stato eh superato invece nelle ultime elezioni a più riprese nonostante la repressione ferocissima attraverso l'invenzione politica l'HDP e il partito della democrazia dei popoli in realtà al suo interno a tanti partiti organizzazioni sociali movimenti non solo i curdi eh ma anche le altre minoranze presenti del paese eh soggettività femministe sindacali eh una pluralità di realtà eh che non configurano un partito come era inteso nel eh nel novecento eh però questa convergenza politica eh che hanno costruito ha consentito di reggere la repressione anche eh l'ingegneria repressiva sul piano istituzionale eh di blindatura del dello spazio della rappresentanza. Oggi eh l'HDP ha lanciato una nuova offensiva e cioè in questo congresso a fronte della repressione che sta subendo da Erdogan eh ha lanciato la proposta che ci sia una grande alleanza eh di tutte le opposizioni eh per mandare insomma per sconfiggere Erdogan eh alle prossime elezioni e su questo ci sono stati molti interventi che hanno teso a spiegare eh come in questo momento in Turchia eh sembra una lotta contro il fascismo ovviamente dico questo eh mettendo le mani avanti non penso che sia uno schema riproducibile in Italia perché noi non abbiamo Erdogan ma abbiamo Draghi però lo cito e c'è un contesto completamente diverso ma lo cito perché eh i differenti livelli dell'azione sociale, culturale, sindacale eh dei movimenti e dell'azione politica sul terreno della rappresentanza vengono eh declinati dalle compagnie e compagni di curdi con una grande creatività che è quella che dovremmo avere anche noi. Io su questo sono d'accordo su una cosa che ho sentito Campolongo scusate se citerò solo lui e Fabris ma sono gli unici eh che ho ascoltato quindi mi sarebbe impossibile eh citare tutti voi che avrete detto sicuramente cose molto interessanti almeno dall'ottimismo e eh insomma dal giudizio che ho sentito da parte di Gianni eh molto rincuorato dal dibattito che eh che c'è stato. Io condivido quando Francesco diceva che eh c'è un lavoro da fare di lungo periodo per ricostruire eh una sinistra con un profilo forte di massa del nostro paese ma che eh non dobbiamo contrapporre il lungo periodo al all'incursione invece sul terreno della rappresentanza qui e ora che è un dovere e che a mio parere dobbiamo perseguire eh cercando eh di creare le migliori condizioni personalmente non sono innamorato eh delle delle teorizzazioni che si caliano nella realtà concreta eh in maniera un po' troppo astratta eh nel senso che che penso che dobbiamo lavorare sulla base degli elementi che abbiamo oggi a disposizione. Ora noi abbiamo e abbiamo la possibilità di costruire una narrazione comprensibile c'è in Italia da anni un partito unico della guerra e lo si vede guardate bene partito unico della guerra non soltanto oggi con la guerra in Ucraina e l'invio delle armi lo era anche sull'Afghanistan sull'Iraq lo è stato sulla ex Yugoslavia. Io vi ricordo che ogni volta quando eravamo in Parlamento che noi eravamo elemento di blocco rispetto a un voto del centro-sinistra veniva fuori che la cosa però si poteva provare con i voti della destra. Ora questo partito unico della guerra che non ha il consenso del paese ma ne ha ancora troppo eh a sinistra è anche il partito unico della precarizzazione del lavoro e il partito unico delle privatizzazioni ed è il partito unico dell'attacco alla Costituzione. Su questo punto io credo che noi possiamo fare una narrazione popolare e proporre un'alternativa in Italia che sia di governo. Io credo che questo sia fondamentale anche quando si rimane in cinque o in dieci. Eh se noi pensiamo che non ci sia un terreno e su questo chiudo un terreno per la convergenza con forze politiche, guerra fondaie e neoliberiste noi non possiamo ragionare in termini di nostra sopravvivenza e come le compagnie e compagni curdi dobbiamo inventarci una proposta nostra che però parli a milioni di persone. Io credo che sia una proposta che debba essere nel segno della Costituzione gettata nel spazzatura da tutto il partito unico debba essere popolare parliamo da due giorni parlate di Sud. Io credo che noi dopo tanti convegni dobbiamo uscire per le strade del Sud a fare a fare comizi contro l'autonomia differenziata dato dei venduti e dai traditori ai rappresentanti di tutti i partiti che sostengono l'autonomia differenziata da fratelli d'Italia fino al partito democratico passando per tutto il resto. Credo che sia una campagna che dobbiamo fare. A me non piace il termine populista perché mi basta essere popolare e dico una cosa che essere fedele alla Costituzione significa essere per una rappresentanza che sia con decoro e onore e e quindi credo che noi dovremmo rilanciare la campagna tradita dal Movimento Cinque Stelle quella per dimezzare le retribuzioni degli eletti in questo paese non sono contrario invece a ogni restrizione degli spazi eh democratici eh chiudo con eh una battuta che hanno fatto in apertura del congresso dell'HDP la compagna che ha aperto il congresso ha detto questa è la capitale Ancara del fascismo di Erdogan oggi la trasformiamo nella capitale della democrazia. Ecco io credo che noi dobbiamo offrire una visione del genere al paese non è mai stato così squallido il panorama politico così omologato noi dobbiamo offrire la visione di una alternativa possibile per la quale valga la pena dispendersi e farlo nella più grande pluralità possibile delle culture, delle sensibilità e anche degli interessi che indifendiamo perché va ricostruito un blocco popolare e anche qui mi è piaciuto l'intervento di Gianni perché noi molto spesso abbiamo un immaginario legato solo al lavoro salariato dipendente eh o di fabbrica e via discorrendo ecco invece deve essere plurale e deve essere intersezionale e dentro ovviamente c'è bisogno anche dell'altra agricoltura. Un saluto a tutte le compagnie e compagni. Grazie Paolizio.